Salve a tutti e bentrovati da Gigi, allora siamo su Top Drivers Ora oggi ho fatto una piccola spesa di 100 modinitine d'oro Praticamente nelle sfide c'è questo famoso Advent Car Leader Che arrivando al livello 19 c'è praticamente una lampadina Che sbloccandola mi dà l'accesso a Tokyo Silent Night Ovviamente sarebbe un evento, credo, lo vediamo un attimo Con vetture giapponesi, con un RQ di 500 e sono 5 gare Con alla fine un pacchetto regalo, penso che venga aperto a Natale Non lo so, Advent Car Lander GIFT, quindi penso il 25, non lo so Quindi ci troviamo qua, adesso vediamo di farla assieme Vediamo un po' pure che macchine mi cercherà Anche se io l'ho già allestito un primo step Per vedere un po' come fossero le macchine iniziali E adesso entriamo in partita Allora, ovviamente una vettura giapponese Io ne ho messe due Di vetture giapponesi Vedete un RQ comunque di 400 che è molto alto Però effettivamente le vetture che si vanno a cercare O a trovare non è che siano tutto questo Questo granchè Comunque, allora, io metterei Questa qui Questa qui E poi vediamo un po' Spero che non succeda nulla, però Sai com'è? Non si sa mai A volte succedono cose strane O la prima è andata bene Vediamo di saltare Ok, tutto a posto E ci prendiamo i 500 Dopodiché di nuovo Giappone Vediamo cosa c'è dopo Cominciamo un pochettino A salire con le vetture Io intanto metto così Sempre con la speranza che non succeda nulla di strano Ok, a posto Passiamo avanti E questa è la gara numero 2 Adesso passiamo alla 3 Cosa c'è nella 3? Tranquillo, nulla di che Allora Possiamo andare tranquillamente così Credo, anche se là mi sembra di aver visto una Subaru 4VD Probabilmente Era rossa, una Station Vagon Ok, abbiamo fatto questa Un'altra 500 E' comunque poca roba E poi di nuovo 4 Alla 4 Ecco, cominciamo un pochettino A trovare qualcosa di interessante Però Io di momento faccio così Faccio così Non credo O almeno spero di non aver comunque problemi Anche perché ho macchine di livelli superiori Anche se sono abituato a vedere cose Ripeto, piuttosto strane 1000 E se non sbaglio arriviamo all'ultima Vediamo che macchine Ma nulla di particolare Nulla di particolare Allora, non so Parcheggio Trattornanti Ti metterai questa Poi un po' Così Giusto per E ci prendiamo Questo pacchettino Regalo Finiamo qua Ok Qua 3.22 Abbiamo preso il GIFT BOX E Credo che questo GIFT BOX Non so Dove sia andato a finire 15 di 15 Forse qua Nella mia auto Nì Qua no Vediamo se Forse sta qui GIFT BOX Può darsi No A quando pare Qua non c'è GIFT BOX Allora penso che verrà aperto Consegnato Nel giorno di Natale Probabilmente E qua non c'è Effettivamente Non è presente No 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 Ok Va bene E Niente Io volevo farvi vedere Questo piccolo Piccolo video Per vedere Che macchine vi danno Niente di particolare Tutto molto facile E Novità Mi pare Nessuna Dall'ultimo video Che ho caricato Sì forse Ho introdotto Qualche altra macchina Che adesso Non ricordo quale Ho qualche macchina In fusione Devo Ecco la Porsche Questa roba qui Comunque Il video Termina qua E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao